Sì, è stato fatto uno screening oggi. In realtà questi alberi sono già stati oggetto di monitoraggio da parte di alcuni colleghi che hanno in consegna questa zona. In conseguenza dello schianto che si è avuto oggi, anche se non è la mia zona, sono sovraggiunto e ho verificato immediatamente i due pini adiacenti, quello schiantato, che sono di fronte alla Corte dei Conti. Ho visto dei sintomi precursori di possibili cedimenti da parte dello scafo radicale e quindi sono esemplari che potrebbero cadere da un momento all'altro. Per cui ne ho immediatamente ordinato l'abbattimento, a breve dovrebbero venire le squadre con i cestelli ed effettuare le operazioni di riduzione del rischio. Chi si occupa dell'abbattimento degli alberi? Sempre l'assessorato all'ambiente che poi debuta le ditte che hanno in carico queste zone a effettuare i servizi di pronto intervento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.